Sì, d'accordo, grazie. Dai, resti qui, resti qui, perché è un momento solo, questo è il momento centrale di tutto questo festeggiamento perché arriva la lettura del decreto che sancirà appunto con Versano come città e quindi io invito bimbi, in questo caso perché saranno loro in colteo ad accompagnare il prefetto qui sul palco per la lettura ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del titolo di Città. Un applauso bello, lo vogliamo forte, perché questo è veramente il momento da privido, quello più emozionante. Ufficialmente in questo istante... Repetto? Allora, possiamo salire con questo? Allora, abbiamo bisogno di esserci, sentirci ben protetti, per cui invitiamo qui sul palco tutte le unità civili presenti, così con loro avremo il piacere di dare ufficialmente la lettura di questo decreto, quindi le unità civili presenti, sindaci, insomma, delle... L'autorità, voi, compagnia, voi, intanto il Presidente del Presidio, la Scuola Gentile, con me, le rappresentanze del Consiglio Comunale di Venezia, e poi le autorità civili presenti, ... Consigliere del Governo della mancivolta, non so se c'è il Consiglio da Bontantu... I sindaci presenti, sarei orgoglioso di averli qui sul palco. I sindaci presenti, sarei orgoglioso di averli qui sul palco. I sindaci presenti, sarei orgoglioso di averli qui sul palco. I sindaci presenti, sarei orgoglioso di averli qui sul palco. I sindaci presenti, sarei orgoglioso di averli qui sul palco. Ne do lettura, la lettura probabilmente vi risulterà un po' arida, ma a tutti i fatti di questo importante riconoscimento sono state spese già tante parole alle quali io mi incrocio. Sapendo come molti di voi sanno che ben due anni della mia vita l'ho trascosto qui in funzione di un istituto. sapete quanto ho amato e amo ancora questa città e credo che veramente il titolo se lo sia complicato. Non solo per la sua traduzione, per la sua storia, per la continua attenzione alla cultura, fatto oggi non sempre così presente. ma anche per la rilevanza politica che ha avuto negli anni, dal fine del Novecento, tutto il percorso che è stato ricordato per l'Unità d'Italia è stato segnato da ricordati strutture commerciali. auguri alla città di Pompersano. Dista la differazione numero 109 del 28 giugno 2010, con la quale la giunta del comune di Pompersano ha chiesto la concessione di un titolo di città, vista la documentazione prodotta a corretto della deliberazione, visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Pompersano in data 2 agosto 2010, visto l'articolo 18 del decreto legislativo del 18 agosto 2010, numero 267, è ritenuto che tutti stanno le condizioni vecchie previste sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne contribuisce parte integrante, decreta, si concede al comune di Pompersano, in provincia di Bari, il titolo di città. Roma, a chi prende il dicembre 2010, Giorgio la contà. Grazie. Ora invece facciamo anche entrare il nuovo confalone, in questo caso accompagnato dalla celebre melodia di Pita Puliese, del Maestro Piantoio e da tanti altri bambini. Che entri il nuovo confalone. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 C'è la sostituzione del gonfalone, va via quello vecchio e diamo il benvenuto a quello nuovo, va via l'argento e arriva l'oro, città di conversano. Beh, ha fatto anche il suo dovere, anche quello lì, ci mancherebbe altro. Però come accadde in tutte le migliori discipline, si sta dispiacendo, perché è passato, va bene. E' andato via l'argento, è arrivato l'oro, città di conversano. La città che come sempre picca gli studenti, l'abbiamo visto e allora salutiamo tutte le scuole che sono intervenute, i dirigenti scolastici in particolar modo, il liceo classico statale Morea, il liceo scientifico statale Simoni di conversano, l'IS San Benedetto, la scuola secondaria di primo grado Forlani, la scuola secondaria di primo grado Laccarelli, il primo circolo didattico Faunone, il secondo circolo didattico di Via Firenze, Saludiamo tutti, tutti, tutti gli studenti! Quanto siete belli! Il conversano di venuta oggi città, e non ho sentito un ringraziamento, le saluto, ma anche da parte mia, al comune di conversano, naturalmente non potevamo che chiudere, vorremmo l'innovazione a voi tutti, un buon consapevole di giornata! l'iscerato a chiudere, iRio, in Grazie a tutti. Grazie. Grazie.